In che termini sta la questione? Forse ci sbagliamo noi che pensiamo che chi detiene un potere di governo debba stare magari molto più cauto, ci sono questioni più di opportunità non lo so, te lo chiedo perché dice Brunella Bololi che è stato fatto tutto a regola d'arte da parte del ministro Lolo Brigida quindi tutto normale oppure dovrebbe semplicemente chiedere scusa a Lolo Brigida senza rampicarsi sui vetri? Non conosco tecnicamente gli elementi della questione dal punto di vista del traffico ferroviario io trovo tutta la vicenda un po' deprimente al di là dell'eccellente lavoro del fatto che tra l'altro sta facendo secondo me un giornale in questo periodo notevolissimo, molto mosso Molto mosso, sì sono d'accordo, sono molto motivati Io trovo la vicenda deprimente nella centralità comunque che ha preso rispetto a un contesto di un paese che un giorno si interroga rispetto a quello che sta accadendo drammaticamente nel mondo e poi ha una classe politica che usa parole definitive su una questione disastrosamente minima nel rapporto con l'elettorato ovvero se la classe politica avesse un carisma vero per quello che era presente in un paese ci sarebbero i passeggeri del treno ad andare in soccorso di un ministro che sta perdendo un appuntamento dicendo ci stai rappresentando tutti, sei il nostro paese lo fermiamo con le mani in treno e ti facciamo scendere Forse la domanda è questo rapporto, questa osmosi con questo popolo esiste o no? Se questo popolo è così capriccioso che un giorno ti chiede la totale osmosi e il giorno dopo traguerre tragedie a una classe politica intera che è pronta a dire dimissioni e parole grandissime ecco mi sembra davvero che sia una fotografia di un paese un attimo sbandato fuori dal binario sono andato fuori dal binario per restare in tema però per restare in tema è un attimo di un attimo